ciao ragazzi siamo all'europa park mi ha appena parcheggiato e adesso ci avviamo verso l'entrata eh si facciamo dei video ah si si volevo fare video questo è silvestro ma che non faremo non faremo perchè senza gotthard, ciao gotthard! senza gotthard non si fa questo, ha solo il suo compagnio guardate guardate adesso andremo appunto all'ingresso magari facciamo così quando ripassa perché adesso dovrebbe ripassare un altro carrello del silvestro noi faremo l'aslantica del Vodan penso, forse, al massimo facciamo proprio quelle lì quindi eccoci qua riprendiamo tra poco un saluto